Io mi chiamo Lucio in Arte Basic e vengo da Rimini. Sei mai stato a Genova? Ci sono stato tanti anni fa in occasione di una mostra collettiva da cui ho preso parte. Saranno passati penso almeno 15 anni, quindi questa è la seconda volta e ho avuto anche l'occasione di visitarla e di conoscerla un po' più approfonditamente. Il mio lavoro si incentra principalmente, ma non solo, sulle mani. Diciamo che la gestualità delle mani è stato il filo conduttore delle mie opere per tanti anni. Ho voluto riproporlo qui, quindi c'è una sequenza di dieci mani in cui si incastrano delle lettere color oro che vanno a comporre poi la parola La Superba, che è uno dei soprannomi di Genova. Diciamo che uno degli aspetti dell'arte pubblica comunque è che ci sia sempre la componente di polemica perché è statisticamente impossibile che piaccia a tutti e quindi è una cosa su cui penso che io e gli altri artistici abbiamo imparato a muoverci su questo filo. Detto questo, insomma, sono contento che il progetto abbia preso il via, che si stia facendo, quindi direi che comunque il risultato è positivo. Grazie. 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 Grazie.